Pangea è un viaggio, è il viaggio tra il sogno e il segno, tra quello che è la speranza di una vita migliore e la realizzazione di una vita migliore. Niente di più bello che poterlo raccontare attraverso lo sguardo, gli occhi, le lacrime e anche le parole che vengono però per ultime di Laila e Farzana che sono quanto di più forte, di più rappresentativo Pangea oggi possa mostrare per dimostrare quanto la parola impossibile non debba esistere e quanto la parola vivere sia importante. Una chance, un'opportunità, un'occasione non perduta, una mano tesa, accolta. Ecco, Farzana e Laila sono una dimostrazione vivente che quando si può giocare una scommessa e la si può giocare bene la vita esplode nella sua migliore felicità e dimostra quanto tutti siamo uguali sotto questo cielo.